E come vedete le due squadre in proiezione alla gara di ritorno? Vai Dani, comincia a te. Allora, io sono abbastanza sorpreso del risultato dell'andata, nel senso che non mi nascondo, ero molto fiducioso, ma non tanto perché volessi snobbare la Roma, ma più che altro perché era abbastanza in fiducia per il Milan. Roma è che ha meritato di vincere, ha giocato molto più da squadra, noi abbiamo giocato decisamente sotto tono, tra sicurezza dei propri mezzi e sacenza, lo dico sempre, che è una linea molto molto sottile che noi abbiamo bellamente superato. La partita col Sassuolo, secondo me, lascia il tempo che trova, non mi butta nello sconforto visto come è andata, così come non mi avrebbe esaltato se avessimo vinto 4-0, perché penso che giovedì a Roma sarà una partita completamente diversa. Voglio continuare ad essere fiducioso, nonostante questa Roma è... Abbiamo fatto un video con Gabone dicendo cosa temi della Roma, ho detto il gruppo, la squadra, non c'era nessun giocatore più di altri che temevo particolarmente, è proprio l'unione della squadra ed è quella che ci ha battuto. Allora, c'è Matte Lasa, e lo chiedo a voi, Gabomen, è il buon Fabio che scrive, Roma che con De Rossi ha dimostrato che nelle partite che contano sanno tirare fuori le palle e giocare bene. Ed è vero. Ma lo abbiamo dimostrato, secondo me, da quando è arrivato De Rossi in tutte le partite. Abbiamo avuto dei primi tempi bruttissimi e paradossalmente forse con le squadre più abbordabili, mi viene in mente il primo tempo di Lecce, te ne viene in mente un'altra? Beh, anche il primo tempo con Ludinese non è stato proprio... Esatto, esatto. Infatti, ieri... Spettacolare. Però poi, ecco, sì, io mi trovo totalmente in accordo. La Roma poi comunque riesce a prendere le misure all'avversario, gioca da squadra, non si fa impensierire, non si fa intimorire proprio nel proprio calcio e credo che abbia fatto un lavoro di mentalità importantissimo De Rossi. Mi piace anche il fatto che tatticamente stravolge. Stravolge tantissimo, parte con la difesa a tre, poi si mette a quattro, poi inverte i ruoli di calciatori e Sharawi lo mette a uomo per cercare di arginare a Leao. Insomma, tantissimi dettami. Cioè, è un allenatore che sembra veramente non avere limiti ed è una cosa che secondo me si vede raramente. È una merce veramente rara. Sono veramente... Forse anche al di sopra di quelle che potevano essere le nostre aspettative. Sicuramente aspettative molto più alte. Nel senso, scusatemi, abbiamo delle aspettative molto più basse rispetto a quello che poi ha saputo dimostrare. Però io tendo sempre ad andarci un pochino più cauto. Siccome la stagione è ancora lunga per certi versi e di big match ne avremo tanti, proprio per rispondere alla domanda che ci ha fatto il nostro fan, così diciamo, io aspetterei e rimanderei il giudizio a quando giocheremo tutti i big match. Perché sì, sicuramente la Roma ha dimostrato nei pochi big match che ha giocato di saper tirare fuori un certo carattere. Però adesso c'è veramente un ciclo di partite impossibile da gestire. Perché obiettivamente ci sono concentrate tutte partite difficilissime una attaccata all'altra. E credo che meglio di questo periodo nulla potrà dimostrare qual è il vero carattere della Roma. Posso fare una domanda su Milan-Roma? Visto che non c'è arbitrino facciamo un momento muviola. Facciamo. Allora io ovviamente da interista ho goduto che abbia vinto la Roma, non me l'aspettavo. Mi faceva andare bene anche un pareggio, mi faceva andare bene. Quindi 1-0-1 è oltre le mie più rose previsioni. Il Mani di Abram, secondo voi, è rigore o no? Vi dico la mia, io ho goduto che non l'abbiano dato. Ho goduto. In Italia li fischiano, però io ho sentito un'analisi su Sky che è stata fatta, adesso non ricordo, da chi, che però condivido. Perché se riguardate attentamente, ribadisco, se l'avessero fischiato non mi sarei lamentato, perché in Italia li fischiano sempre. Però in dimensione europea la chiave di lettura è la seguente. Abram chiude gli occhi, o addirittura proprio non guarda la palla in quel momento, cerca di colpirla di testa e la prende con la mano. Con il braccio però, sì, un po' staccato dal corpo, ma che, se in proiezione dietro di lui fosse passata quella palla, non sarebbe arrivata ad alcun giocatore del Milan. Cioè, leggendola in questo modo, questo secondo me è anche un qualcosa che dobbiamo cercare, a cui dobbiamo cercare di uniformarci. Ieri abbiamo visto un assist di braccio di La Padula, che è valso il 2-2 del Cagliari. Hanno tentato di ostacolarci in tutti i modi, hanno tentato, ma noi, noi contro tutto e contro tutti, caro Brogna a proposito, di Marotta League, eh, anche contro le cappelle arbitrari. Però, secondo me, quello di Abram, come quello ieri di La Padula. Cioè, quando tu hai il braccio così largo... Anche su quello di La Padula, però, hanno dato una chiave di lettura simile, eh, in fase di dimensione europea, e, e si uniformano a quel giudizio. Cioè, non è che ogni volta che viene presa la palla con la mano, allora a prescindere... Ma quella di La Padula è pure un assist, oltretutto. Cioè, la palla va proprio al giocatore... Era girato, però. Se tu la guardi attentamente, io pure ho detto... Ma tu con quel tocco di braccio dai la palla al giocatore, la palla va finita al giocatore che fa gol. Cioè, hai un assist di braccio. Però poi, io, cioè, apro gli occhi quando sento il parere di persone sicuramente più esperte di me, e obiettivamente... Vabbè, Juan Marelli, ieri aveva detto subito che era cazzo di rigo. La Padula se la ritrova che gli va a finire, praticamente, capito come? Quindi, in dimensione europea, non è poi, secondo me, così sbagliato che su certe cose si lasci correre il gioco. Secondo me, però, deve essere sempre così anche in Italia, perché l'errore si commette quando una settimana ad una squadra quel rigore te lo fischiano e un'altra settimana invece sconfessano la decisione arbitrale di un altro. Cioè, non c'è mai un precedente. Non so se mi sto spiegando. Non c'è uniformità di giudizio. Quella è la cosa, secondo me, più brutta. Perché se dicono non è mai rigore, ok, però devi applicarlo sempre così. a me se non mi danno un rigore come quello a me mi scoccia. Poi, io sono assolutamente d'accordo. Pure io. Guarda, io ho dato poco peso a quella roba lì solo perché ero totalmente deluso alla prestazione del Milan e che davvero, forse anche nel post partita, o non ne ho più parlato, ne ho parlato verso la fine. Però, obiettivamente, per me è quello, perché si parla sempre, no, come dice Gabo, di arbitro italiano, arbitro europeo. Io, in Europa, contro il Renno, ho preso un rigore, contro fuori casa, in trasferta, per un tocco di mano di Jovic, abbastanza simile, dove nessuno se ne ha accorto, l'arbitro viene richiamato e quindi l'uniformità può alla fine fare la differenza. Per me possono anche decidere che in aria si possa schiacciare tranquillamente, proprio uno la alza e l'altro la schiaccia. L'importante è che sia sempre così per tutti. È quello che scoccia, la non uniformità, così come l'assist di ieri, per me, occhi aperti, occhi chiusi, di fronte, di lato, di spalle, se la prendi di male e succede un qualcosa. Poi poco conta, secondo me, che non c'era nessun altro che poteva prenderla. È mano punto. È mano punto, sì. Però non si capisce nulla. Non so se avete visto Fiorentina, adesso, Fiorentina, Genoa, avete visto l'episodio? No, mi è sfuggito, l'ho letto, ma non l'ho visto con i miei occhi. Per me è vergognoso, nel senso che c'è stato un contatto in aria su un cross dove viene fischiato dall'arbitro un rigore dove si tengono entrambi, però alla fine forse era molto più rigore che non rigore. Marelli, giustamente, dice è un episodio da campo, l'arbitro valuta l'intensità, cazzi e mazzi, come dicono sempre, puntualmente interviene il VAR, che in teoria dovrebbe intervenire solo in caso di chiaro di evidente errore, l'arbitro lo guarda e dà fallo in attacco per la Fiorentina, tanto che pure Marelli era senza parole, era sconcertato e quindi è questo che scoccia a vedere robe strane. Aurelio 0-0-0-0-0 dice si è dimenticato uno 0 0 e dice incredibile come gli errori arbitrali siano aumentati col VAR e poi dice Brogna toccati le cuffie se stai rosicando per Roma-Milan. Ma no, dai, gli errori arbitrali non sono aumentati col VAR, dai. Il VAR, ragazzi, ha tolto almeno l'80% degli errori arbitrali. Ma quel 20% ti fa girare di più i coglioni. No, siamo qui a parlare del 20% di errori che sono rimasti. Ma il VAR ha tolto l'80% ma che ha aumentato? Ha aumentato una serie di contraddizioni appunto come non si capisce l'uniformità mai di un fallo viene valutato in un modo poi in un altro poi in un altro no, veramente ha aumentato veramente. Ha aumentato per cominciare grazie al fuorigioco lì elettronico abbiamo azzerato. Ma anche lì ma che gola no, fermate, fermate, stavo per aprire proprio questo il regolamento è quello vogliamo cambiare il regolamento senza cuore. che gola hanno annullato i suquezze? Ha capito? Il regolamento è quello vogliamo cambiare i suquezze? Spiegatemeli perché non c'hanno senso cioè quale vantaggio prende i suquezze in quella posizione ragazzi ma ragazzi il regolamento è quello poi vogliamo cambiare il regolamento siamo tutti d'accordo io tornerei a fare che il fuorigioco è quando fra un giocatore e l'altro c'è la luce sì di quello sono più d'accordo però finché il regolamento è quello quello di Cucciuese è fuorigioco quello di Barella ieri con la C non Cucciuese Cucciuese quello di Barella ieri è fuorigioco il regolamento è quello ma ragazzi ma anche i falli di mano ma nel calcio vero nel calcio vero ovvero quello senza avare in cui ogni tocco di mano è rigore i falli di mano devono essere anche lì una cosa seria non è che uno può tagliarsi un braccio può tagliarsi ogni volta ti rimbalza la palla addosso poi ti va sulla mano allora è fallo eh ragazzi cioè è vero il VAR ormai con i regolamenti ci sono per carità poi i regolamenti sono stati fatti così evidentemente qualcosina da cambiare ci dovrebbe essere però dai ha fatto diventare il gioco in tante situazioni un non gioco perché anche tanti falli di mano che vengono fischiati vengono dati rigori ma che falli sono scusate poi si si lascia correre in falli netti cioè ci sono dei falli plateali in cui l'arbitro sul campo ha valutato così il VAR non poteva intervenire ma allora non ha senso cioè non è che uno dica che gli errori siano aumentati non aumentati cosa è che il VAR utilizzato così crea solamente confusione quindi non ha senso verrà usato sempre di più per togliere confusione ma non potevano dal momento della sua introduzione far sì che l'arbitro diventasse una marionetta in mezzo al campo che non contava più un cazzo adesso gradualmente gradualmente secondo me sono anni e anni che c'è adesso il VAR ho capito ma ragazzi sono anni e anni che c'è il VAR adesso piano piano secondo me avrà sempre più potere ma scusate ma scusate allora per quanto a me non piaccia la regola del fuorigioco così prendiamo per buona è vero sui fuorigiochi va bene ok poi lì bisogna vedere quando tracci la linea se parte il pallone perché tracciarla un millimetro più in là un millimetro prima lì ti devi fidare allora vedi lì ti devi fidare secondo me l'unica che ha tolto ogni dubbio è la goal line technology ah bravo cosa facciamo non ci fidiamo neanche della linea che mettono ma ragazzi ma è troppo quando tu annulli i gol per una roba del genere come ieri capisci che il limite è minimo è minimo hai presente la rotellina quando vai avanti o indietro negli editing no è minimo